Flora potrebbe lasciare Milano e il Paradiso. Vediamo perché. Il Paradiso delle Signore Sei. Le anticipazioni dal 18 al 22 aprile. Parte 3. All'inizio della settimana, che va dal 18 al 22 aprile, Flora Gentile pensa di poter conquistare Umberto. Spera che scelga lei, piuttosto che Adelaide. Ma nei giorni precedenti la contessa ha assistito al baso tra la Gentile e il cognato. Così dà un out-out al Guarnieri. Deve chiudere definitivamente con la stilista del Paradiso. E d'altronde Umberto è deciso a riconquistare la zia di Marta e Riccardo. È lei che ama. Flora riceve una chiamata dagli Stati Uniti, una telefonata che la fa molto riflettere. Un nuovo lavoro per lei e quindi una nuova opportunità potrebbe prospettarsi oltreoceano. Deve riflettere se accettare o meno questa nuova offerta di lavoro. Nel caso in cui la figlia di Ravasi decidesse di lasciare Milano e di conseguenza il grande magazzino, Vittorio dovrebbe trovare un'altra stilista. Grazie.